Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Crazy Adventure Ragazzi questo episodio qui sarà molto interessante anche se andremo a craftare un po' di cose Quindi è un po' da vedere ma tranquillo non sono crafti incomplessi Sarà utilissimo per i prossimi episodi e perché appunto andremo avanti con l'equivalente exchange Cos'è l'equivalente exchange? È quella che voi vedete alle mie spalle Ah ho aggiunto anche una chest in cui ci metteremo tutte le cose alchemiche Appunto quella lì dell'alchemia Ragazzi non vi sto a spiegare subito cosa faremo perché intanto preparo un pochettino i materiali Appunto dobbiamo cuocere tantissima stone E vabbè anzi no in verità ve lo spiego bisogna fare un tavolino in questo momento ragazzi Un tavolino che ci serve per metterci dentro un libro Però il libro giustamente si fa con la cosa lì Non mi viene nemmeno come si chiama la carta E semplicemente il cosi di mucca la pelle Però allora intanto qua uccidiamo questi schifi qui che veramente sono disgustosi Sono venuto qua perché pensavo di trovarci tipo Ah no la canna da zucchero sta laggiù Quindi andiamola a prendere E riguardo alla pelle non so se ce l'ho ma penso che qualche mucca non sia così difficile da trovare Lo so volendo potrei andare in qualche villaggio e saccheggiare le liberie Non lo metto in dubbio però sinceramente non è che mi ispiri poi tanto come cosa Quindi se tutto va bene vicino a casa No in genere ci sono le mucche qua vabbè da qualche parte qua ci sarà qualcosa Qualche mucca mucosa Non penso siano così difficili da trovare Sinceramente Quindi mucche 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 dove stanno Ok di mucche non ne ho trovate però giro vagando sono finito nel villaggio Sinceramente non so se ha delle liberie però c'era questo pezzettino qui con dei libri dentro E tra cui uno è un libro normale quindi Facciamo uno scambio io prendo il libro normale Che un po' tutto dove l'ha messo Eccolo qua perfetto E gli do le canne da zucchero così Totalmente a caso totalmente a caso Quindi a questo punto posso tornare a casa dopo che ho fatto uno scambio con le villagere Prima li dirubo e poi ci faccio gli scambi quasi quasi onesti Comunque ok il libro l'abbiamo portato qua Cosa bisogna fare allora bisogna intanto prendere la stone che abbiamo cotto qui E bisogna fare il research table dovrebbe chiamarsi eccolo qui Che si fa semplicemente con due pezzettini di ferro la stone e una slab Allora il legno ce l'abbiamo No non ce l'abbiamo perché sta qui Intanto prendo anche il bonomini che ci serve Ehm legno? Ah no ce l'ho qua dentro ce l'ho qua dentro un saccottino C'è per forza qua? No E allora l'ho messo qua nella cesta dei materiali Eccolo qui perfetto perfetto Un pochettino di inventare dovrete tenerlo perché effettivamente serve Però allora facciamo una piccola slab A parte ne fa tantissimi quindi nemmeno mi serve Ok facciamo il tavolino Il tavolino ragazzi è un tavolino normalissimo Che potrebbe essere usato anche per un qualcosa di estetico Però ha il suo utilizzo che ora vi andrò a spiegare Allora intanto la chest la posso lasciare qua in mezzo Sì tanto chi se ne frega E' un posto normalissimo Praticamente qua ci vanno degli oggetti E qua ci va un libro Il libro si fa semplicemente mettendo a cuocere qualcosa di molto costoso Qua forse c'è qualcosa Sì perfetto Abbiamo 33 più un blocchettino qui Quindi ne possiamo bruciare un pochettino Tanto chi se ne frega Quindi mettiamoli qui a bruciare E ci metterei sotto del Va un alchemical ce lo metto Perché non bisogna bruciare soltanto questo Ma bisogna bruciare anche qualcosa che non abbia valore E con qualcosa che non abbia valore Penso che meno della terra Sinceramente non ci sia niente Quindi Dopo appena finito di bruciare questi qui Ci butto di violenza la terra E facciamo un po' dei polveri Mentre qui si sta facendo tutto Perché noi non possiamo andare avanti ragazzi Perché appunto dopo ve lo faccio vedere Ma ci serve Va messo il libro qua in mezzo Infatti già lo metto E della polvere sotto Che appunto non abbiamo ancora Quindi Forse ne basta uno Sinceramente non saprei Proviamo subito Sì ok sta facendo Però mentre fa ragazzi Comunque bisogna andare a prendere Una cosa molto importante Ovvero Intanto questi sono cresciuti Questo sì Questo sì E poi ripiantiamo Ma non ci ha dato un seme Però basta fare così Vabbè un giorno lo faremo al campo Un giorno Però non è oggi quel giorno Devo prendere assolutamente Della cosa Dell'argilla Ok questa qui sembrerebbe argilla Quindi prendiamola Ok Non so quanta me ne serve Sinceramente Penso nei basti Pochissima così Non ne sono sicuro Però vabbè nel dubbio Si viene a riprendere Tanto davanti a casa Per fortuna abbiamo fatto la casa Vicino all'acqua E appunto in un'isola Comunque anche notte Quindi magari Andiamo a dormire Vediamo se No che non è ancora notte Non posso ancora dormire Però c'ho fame Del cibo ce l'ho? Ragazzi sapete che non c'ho il cibo A proposito di cibo Io Qua dentro C'ho il saccottino Con le patate E in teoria Se faccio così Ecco c'ho 20.000 stack di patate Le metto qua E quando ha finito di cuocere Appunto questa roba A parte che la potrei già allevare Perché non è che mi sarà più di tanto Tanto così Già dovrebbe andare bene Ok E notte Quindi intanto vado a dormire Però Perfetto Un pochettino L'avrà già cotte Ok si Due Intanto almeno posso mangiare un minimo E rigenerarmi la vita Ok Ha fatto il libro Ora Già il libro sarebbe utilizzabile Vi mostro Cos'è questo libro Praticamente Se noi ci clicchiamo col destro Dovrebbe essere No Non proprio Ok no Ora lo fa Ora lo fa Dice che non conosce Trasformazioni Se io metto il libro qua Sulla destra E gli faccio memorizzare Una cosa a caso Un lingotto Ok Come si può vedere C'è una cosa di avanzamento Una freccia diciamo Chiamiamola freccia Perché alla fine è una freccia Non so se il blocco Sinceramente sparisce oppure no Ok si è sparito Perché L'ha assunto proprio Se io clicco col destro Vedete Ha messo Cioè l'uno qua Semplicemente sta a indicare la paglia Non sta a indicare che ce n'è uno Ha memorizzato Il lingotto Quindi questo qui È il libro dell'alchemia E il libro dell'alchemia Ha memorizzato il lingotto Io semplicemente Qua dentro ci posso mettere Uno di cobblestone Dopo che ci ha messo Uno di cobblestone Ci posso mettere Se ci posso mettere Queste frecce No ecco Vedete Se premo shift Dice che non c'ha Un valore di scambio Di energia diciamo Quindi vuol dire Che non è compatibile Però se io ci clicco Appunto non me lo fa nemmeno mettere Proprio non è compatibile Con la mod Queste qui per esempio Hanno un valore di scambio Di 147 mila Mila Quindi io gliela faccio memorizzare Mi dispiace un pochettino Andarla a perdere Però vabbè Sti cazzi ragazzi Vi farò vedere Che comunque In futuro L'andremo a utilizzare Se vi la veramente A tanto Li faccio memorizzare Anche una di quelle normali Così giusto per Farvi vedere A cosa serve Magari anche un diamante Lo prendo No da qua Non lo posso prendere Aspettate Però posso prendere Questo qui ha un valore Sì questo ha un valore Vi faccio vedere però Direttamente il diamante Perché io sono un po' curioso Voglio vedere se effettivamente Il diamante Oltretutto ha più valore O no di questo qua Tipo questo qui ha 8 mila di valore Ah ok Il valore praticamente Non cambia Tra questo qui E il diamante Quindi Senza Ragazzi una volta Che praticamente Facciamo memorizzare Sia il diamante Che la minimum dust Praticamente potremmo fare Direttamente a minimum dust Senza nemmeno cuocere I diamanti Insieme a quella roba lì Quindi proprio una cosa spettacolare Comunque Vi faccio memorizzare anche il diamante Così abbiamo una visione Un pochettino più larga E forse più capibile Di tutta la mod Allora il libro Può memorizzare Infiniti oggetti Tutti gli oggetti compatibili Con questa mod Li può memorizzare Ovvero quelli di minecraft normale E Non so se hanno reso compatibili Qualche altro oggetto Che non sia di minecraft normale Comunque vabbè Chi se ne frega Come si può vedere Qua ci dice già il valore di scambio Uno In questo caso Della cobblestone Il diamante 8192 Questo qui vabbè All'incirca 16.000 147.000 E 256 Ragazzi Noi possiamo Trasformare Questi 5 oggetti Da uno all'altro Vi spiego come Se io per esempio Ho 147.000 Di valore Di energia E brucio Una golden apple Incantata Praticamente Posso ottenere Una fraccata di iron Fino a quando I valori di energia Non si equivalgono Quindi Considerate che 256 Equivale a un lingotto Dunque Una proporzione Ragazzi Io non sono bravo Con le proporzioni Però 147.000 Penso Equivalgano A probabilmente Centinaia Di lingotti Molte centinaia Non c'ho nemmeno voglia Di pensarci Nelmeno un minimo A quanto possano Equivalere Però comunque Per farvi capire Brucio un oggetto Ottengo il valore Di energia E quel valore Di energia Lo spendo In altri oggetti Più o meno Il funzionamento È questo Però Il punto è Com'è che si fa Perché io in questo momento Ho un libro in mano Non ho Una Una tavolozza Su cui posso Andare a scambiare gli oggetti E appunto È della tavolozza Che abbiamo bisogno E come si fa Questa tavolozza Semplicemente Bisogna andare qui E bruciare gli oggetti Che non hanno valore Tipo come potrebbe essere La terra La terra Se Ci va bene Ci dovrebbe dare La polvere normale Perché a noi non serve questa polvere qui russa Che in tutto Ora nemmeno ci serve Quindi la butto direttamente qui Ma ci serve la polvere Ecco perfetta Questa qui Questa polvere normale Se vado a vedere Cosa ci si può craftare A parte tipo cose strane Che Ignoro sinceramente Ok Avevo tipo sbagliato a pagina Per questo non lo trovavo Appunto Mettendo a cuocere della stone Con questa polvere qui Nell'Aludel Che abbiamo dietro Proprio dietro di noi Quindi non si vede Facciamo questa Ash infused stone Che se non sbaglio Ce ne servono 9 pezzi contatti Quindi nemmeno Tanti A questo punto quindi Devo prendere Non mi ricordo cosa dovevo prendere Ah no Già è vero Ce l'ho già nell'inventario In teoria Vediamo Ne ho 25 pezzi Perfetto Quindi ce ne manca Soltanto uno E poi Questo qui si può anche elevare Sinceramente Ok Uno Sbam Anzi non li faccio cuocere Tanto al limite ragazzi Si buttano nella cesta Qualche utilizzo lo troveremo Comunque Ci si mette la polvere sotto Sopra ci si mette la stone E poi Un pochettino di coal Ci butto Due pezzi di coal Ci butto due pezzi di coal Tanto dovrebbero bastare Perché appunto Non dobbiamo cuocere Chissà quante centinaia di cose Aspetiamo che abbia finito E intanto preparo un'altra cosa Perché ragazzi Con questo qua Facciamo praticamente Questi blocchettini qui Che vedete Che si chiamano Ash Infused Stone Ovvero Della stone Con della polvere Praticamente mischiata La polvere Sì la cenere Più o meno Siamo lì Dai Ma noi bisogna fare Anche un'altra cosa Che si chiama Chang Non mi ricordo Era Eccolo qua insomma Questo Chalk Ok Che si fa appunto Col bone meal E della clay La clay l'ho presa prima appunto Il bone meal Ce l'abbiamo Ah no C'ho il osso nell'inventario L'avevo già prese prima Non me lo ricordavo nemmeno Perfetto Quindi Dovevano essere tipo Messi così E qua Magari al centro vuoto Com'era al centro Non me lo ricordo nemmeno Forse ci stava altro Bone meal Sì perfetto Il chalk Cos'è questo chalk? Non ne ho la minima idea Proprio detto sinceramente Non so cosa sia È tipo un blocco Che però Se io spacco Di cattiveria così Praticamente Mi droppa Questi aggeggi E sembrano Cioè Dall'immagine Voi non lo vedete Però sembra tipo qualcosa Per gli insetti Io non Non me lo so spiegare Cosa sia Veramente Non chiedetemelo Non lo so Anzi se lo sapete Tiemelo voi Perché io non ne ho proprio La minima idea Comunque so come funziona Quindi Sti cazzi Va bene così Allora qua non è ancora finito Però c'è da dire una cosa Molto importante Io questa cosa qui Volendo La dovrei fare Tipo qua Sposto questo tavolo Che qua mi sta Abbastanza disturbando Perché ora lo vedrete Il motivo E metto Lo metto tipo qua Tanto alla fine Raggiungiamo tutto così Sì alla fine va benissimo A parte che Ripeto Questo qui Lo potremmo anche levare Perché le cose Come potete vedere Qualsiasi cosa la possiamo ottenere Questo qui Ha tipo valore 1 Quindi non Cioè Qualsiasi cosa la possiamo trasformare Nel senso Se ci serve Tipo della polvere Non dobbiamo per forza Craftarla La craftiamo una volta La facciamo memorizzare al libro E poi la convertiamo Con gli altri oggetti Quindi alla fine Ripeto Si può levare Questo aggeggio Vediamo se è finito Sì ok perfetto Ne ha fatti 9 Ora Devo andare a rimuovere il pavimento Che oltretutto ragazzi Mi sono scordato Però ho fatto delle cose Siccome le faccio off camera Tra un episodio e l'altro Magari passa un po' di tempo Mi scordo anche di dirvele Però comunque si Ho finito il pavimento E se non sbaglio Ah si ok Ve lo faccio vedere Ho modificato anche una cosa Nella banca Perché praticamente Abbiamo trovato Una fraccata di soldi Negli episodi scorsi E quindi Vi faccio vedere Una cosa molto tattica Praticamente qui C'erano soltanto i biglietti Da 50 Ora ci sono sia quelli da 50 Che quelli da 100 Perché nell'ultimo episodio Siamo andati in quella dimensione strana Abbiamo trovato Tantissimi biglietti da 100 Quindi non ha più senso Tenerli qua Che andavano in tasare tutto E qua appunto ci ho messi Quelli da 500 Che comunque sono tanti Quelli da 1000 E quello da 5000 Che è soltanto uno E penso che comunque Quando li saranno tanti Li andrò a convertire In qualche modo Ed Comunque allora I soldi io qua in mezzo Non li voglio Quindi li sposto un pochettino E in teoria abbiamo fatto tutto Ok comunque Faccio vedere questa roba qui Come potete vedere Ci fa tipo un segnino per terra Da quel capito Il segno così Non serve a nulla Tutto va fatto su questa stone qui Bisogna premere la D Però la D non funziona Quindi Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Comunque Forse sto sbagliando pulsante Questo potrebbe essere un problema Ok in teoria La lettera V Però Come potete vedere Funziona Però il problema di prima È che appunto C'era intasata da un altro pulsante Che praticamente Non me lo faceva fare Quindi Io ora Non so cosa fare Ora che l'ho ingrandito Però come cavolo è che Lo piazzo Con la Destro? No il destro non funziona Perché non funziona? Ok ragazzi Sono un pirla Ho capito il perché Noi praticamente Così scegliamo Dove metterlo Io clicco col destro Una volta che ci ho cliccato col destro Me ne posso andare E praticamente Ho consumato Un utilizzo di questo robo qui Che appunto Ne abbiamo consumato un mordello E poi andrei qui A fare shift destro E fa così Madonna mia L'unico problema È che forse L'ho fatto un po' troppo in basso Ed è una cosa tipo Bruttissima Ma se lo vado a rompere No Ok non vorrei romperlo Perché non c'ho sbatti di rifarlo Praticamente se ci clicco col destro C'è questo rubettino qui Io qua in alto a destra Metto il libro E poi qua Metto una golden apple Che l'ho fatto memorizzare Ci dà il valore 147.000 E appunto Se io vado a prendere le cose qua Le va a convertire Tipo questo qua Che ha appunto 8.000 di energia Se io faccio shift sinistro Ovviamente shift sinistro È per prendere tutti Se no cliccavo una alla volta Come potete vedere Ho preso 18 diamanti Perché l'energia Di una golden apple Incantata Qui vale a 18 diamanti È avanzato 24 di energia E posso prenderci 24 pezzi Di cobblestone In teoria Sì perfetto Quindi In questo modo Non è che potremmo avere Realmente Materiali infiniti Però potremmo Convertire Cose che hanno Un alto valore Di energia Con cose che effettivamente Hanno un basso valore E magari Non ci abbiamo voglia Di farmare Per esempio Vi faccio un esempio Noi che Nel prossimo video Anzi in verità In questo video Dovevamo farmare Il buon mill Praticamente Non potevamo farmarlo Per il semplice fatto Che dovevamo andare A uccidere un bordello Di Veramente Mob Ed era impossibile Uccidere tutti quei mob lì Perché ragazzi Se visto che A parte gli schialetti L'hanno abbastanza potenziati Un po' tanto Devo dire Poi tutto magari Cioè quella volta che lo droppa La volta che non lo droppa Ed è un casino Fare effettivamente una farm Perché noi dobbiamo farmare Un bordello di frecce Allora cosa si fa Semplicemente Si mette qua dentro Si fa memorizzare Al buon mill Si mette il librettino qua E facciamo bruciare cosa Vabbè Brucio 18 diamanti di prima E guardate Ho ottenuto Troppi stack Di buon mill Io li Ributto qua dentro E Forse Forse non era Il modo migliore Per dimostrare Questa cosa Detto sinceramente Comunque Più o meno Era quello Che volevo far vedere E Vabbè Lo trasformo in qualcosa Che ha un po' meno valore Così a me mi levo tutto Questo buon mill Che non c'ha senso Di esistere proprio E come potete ragazzi Qua intorno Possiamo mettere tutte le cose Da fondere Per appunto Accumulare il valore Possiamo metterci Tutti questi oggetti Quindi non so Posso mettere uno stack Di qua Un altro stack Di qua E ottenere un bordello Di energia Come potete vedere Ed è una figata assurda Ho detto questo qui Ha valore Oppure no Vediamo No non ha valore Ok quindi non serve a nulla Ed è bellissimo Io penso che sia una cosa bellissima Perché potremmo trasformare Tutti i nostri oggetti Che non ci servono In cose che utilizziamo Esempio Ho fatto dei picconi Che non mi servono Li posso bruciare Ho trovato una spada Che ha un valore di 16.000 E non uso Perché appunto Non la uso questa spada Sbamme la metto qui La brucio Cos'è che abbiamo qua Di inutile Ho fatto una pettorina in diamante E poi c'ho una pettorina In coso qua Oddio la pettorina in diamante Costa un bordello in effetti Guardate Pettorina in diamante Sono Cosa? Ah ok 56.000 Mi sembrava di aver letto 56 milioni Tutte queste cose qui Ci metto il libro qua E magari le ritrasformo in diamanti 26 diamanti Ed è bellissima Questa cosa Poi li ributto qui Ovviamente Accumulo un bordello di energia Cos'è tutte queste cose qua Nella cesta che non mi servono Vediamo I pet per esempio I pet Se non sbaglio Hanno un bel valore Questo a 26.000 per esempio E non mi serve Perché Oh no Oddio Quello questo Vabbè Comunque Sa di fatto che non li uso Quindi chi se ne frega Sono pet Comunque sì Utile ma non li uso Cosa c'è magari Che potrebbe essere molto costoso Sinceramente Non saprei Cosa è costoso in minecraft Oltre il diamante E quelle cose lì So che c'è tipo La minimum stone Che c'è la troppa Qualche mob Che è molto costosa I blocchi questi qua ragazzi I blocchi d'oro Che c'è laggiù Andiamo a prenderli A fraccate dal Dal vicino Là che l'ho sfasciato casa Guardate quanto costano 18.000 a blocco Questi qua Beh 2.000 un po' meno Ne servono un pochettino Per fare i diamanti L'ender pearl 1000 L'ender pearl Ne abbiamo soltanto una Quindi memorizziamola Perché le ender pearl Sono abbastanza rare Bisogna uccidere gli enderman E noi non possiamo uccidere gli enderman Perché tipo Sono rarissimi E insomma Non so nemmeno dove trovarli Quindi ecco Sbam Cioè non voglio Lo so che si trovano nell'ender Però nel mondo normale Si trovano raramente E non sempre Troppano le cose Quindi Ho l'ender pearl Costa 1000 Brucio Un diamante Ottengo 8 ender Per magari mi possono seguire Per craftare Che ne so Pandora's box Cosa c'è qua di Buon e costoso Non mi sembra di vedere Nient'altro Ecco Ok perfetto Tipo Gli smeraldi Gli smeraldi che Non mi servono a nulla Sinceramente Magari quando vado in caverna Così li prendo Li posso scambiare Per altre cose interessanti Ehm Il vetro Non vai a rifarmare il vetro Il vetro ha il valore 1 Con un diamante Posso prendere 8000 di vetro Ragazzi insomma Non c'è altro da dire Penso abbiate capito La mod È una figata assurda Non è una cosa sgravata Perché una cosa sgravata È una cosa che ti fa avere Robe infinite OP Tipo che ne so Le mucche OP Sono sgravate Perché praticamente Io uccido una mucca E mi da una melopila Melopi cavolo E dovrebbe essere rarissima Mentre una roba così Che semplicemente Fa degli scambi Diciamo onesti È una mod bellina E devo dire Molto utile Perché cose che Effettivamente su minecraft Hanno poco valore Ci permette di averne Pressoché infinite Detto questo ragazzi Ci devo dire una cosa Molto importante In caso dovessi perdere Questo libro E dovessi ricraftarlo Il libro in teoria Dovrebbe essere vuoto Quindi andremo a perdere Tutti Le cose memorizzate Che non è una grossa perita Perché alla fine Andremo a perdere Un materiale di ogni cosa Che ripeto Non è chissà che cosa Però È uno sbatti Doverli inserire tutti Mentre i valori Se non sbaglio Potrebbero essere fatti Ragazzi Nella philosopher stone Perché se io premo La U qua C'è una bellissima cosa Che si chiama philosopher stone Questa qui Anzi Minium stone Scusatemi Che può essere Cioè questa qui Ha già un valore Di 60.000 68.000 Anzi E ce n'è addirittura Una infiammata Che mi ricordo Che i pacman Androppavano a fraccate Di queste E hanno un valore Veramente altissimo Mi sembra vicino Ai 600.000 Quella incendiata Che se non sbaglio Si dice carica Non mi ricordo Come la definisce E quindi in caso Dovessimo trovare un pacman Potremmo affrontarlo E effettivamente Fare tante belle cose Ora il punto è Perché ho fatto questo A parte che è una cosa Che andava fatta E che è molto comoda E per ora E per il futuro Perché appunto Quando dobbiamo craftare le cose Non dobbiamo poi andare a cercare Per il mondo Ma basta cercarle Una volta Memorizzarle E poi le prendiamo Semplicemente E poi come ho già detto Mi serviva per preparazione Per i prossimi episodi Perché ripeto Oltre che Le classiche cose Normali Che si fanno su minecraft Volevo fare la farm Di questo qui E dovevo trovare un modo Per farmare Tra virgolette Il bone meal Però non c'è un modo Per farmare il bone meal E quindi l'unico modo È appunto Quello di usare L'equivalente exchange E ok Ne avremo presso che infinito Ma potremo fare Un campo sconfinato Di questa roba qui Che vi ricordo Ci serve Ed è fondamentale Per le frecce Oltretutto Per questo coso qui Che spara a raffica E io ripeto La mia spada Sarà pure potentissima Ma questo spara Frecce a raffica Che capiamoci Insomma Capiamoci Comunque ragazzi Detto questo Io sinceramente Questo coso qui Lo andrò Di su giro of camera E lo rifarò Completamente Un pochettino più alto Perché è così basso Che si vede la terra Mi fa proprio schifo Comunque Sto lasciando questo Io spero che questo video Leggissimo Vi sia piaciuto Ragazzi Abbiamo fatto cose Veramente importanti Per la serie E a mio parere Anche se si parla di crafting Comunque erano crafting Non troppo tecnici Ma erano cose Avanzo interessanti Quindi comunque In generale Spero che vi sia piaciuto E quindi Ciao a tutti